Buongiorno, stiamo andando al cosmo, però non so se siete i miei colleghi che vogliono farsi inquadrare Ciao Michela, ciao Fatima Ci vedete un po' così malaticce? In realtà ho gli occhiali, quindi se non potete guardare il mio meraviglioso sguardo Perché semplicemente ci hanno detto di presentarci solo con la base Perché ci truccheranno e ci faranno anche i capelli Per questo vedete questi capelli molto naturi Poi il fondo dell'albergo ce l'hai lì frizzato Sì, infatti il fondo dell'albergo ci ha reso tutti i capelli elettrici Guarda, ti faccio prendere la scossa E adesso andremo a quest'evento di NYX, è il primo giorno di Cosmo, proprio per me Poi sarò domenica ad Equilibra, quindi farò una piccola pausa in cui mi restaurerò per l'evento di Equilibra Chi sa, ci faranno anche un'acconciatura ed un trucco pazzo Voglio presentarsi solo con la base Ci fanno anche l'acconciatura oggi, non ce l'hai detto? Sì, sì, ma io non vedo l'ora perché mi vedo questi capelli Poi va Maria Maddalena Facciamo sistemare Ci sistemiamo un pochino e insomma li portiamo con noi Ciao, allora, allora Ciao, ciao! Ciao, ciao! Un truccatore del team NYX ha realizzato su di me Un trucco veramente molto intenso che metteva in risalto gli occhi Mentre invece i parrucchieri di L'Oreal Professionel hanno realizzato su di me una piega super mossa Che mi è piaciuta tantissimo, che oggi ho ancora Durante l'evento di NYX il makeup artist Beppe Gentile ci ha mostrato l'applicazione del nuovissimo fondotinta Total Control Insieme al suo pennello E non soltanto ci ha mostrato anche le altre novità Ma ci ha mostrato in particolare l'applicazione di questo fondotinta Che è un fondotinta praticamente magico Ci ha spiegato che con il Total Control riusciamo ad ottenere sia una coprenza simile a quella di una BB Cream Quindi molto molto naturale Sia una coprenza media che una coprenza veramente alta Quindi ci ha spiegato che non è necessario comprare una BB Cream Un fondotinta con una coprenza media E un fondotinta per le occasioni speciali Ma con un unico prodotto Aumentando il numero delle gocce Si riesce ad aumentare la coprenza È un fondotinta dall'effetto estremamente naturale Che dona un effetto praticamente naturale Anche sotto la luce del sole Quindi non evidenzia i pori Va incipiato leggermente nel caso in cui si abbia una pelle mista E ci ha inoltre mostrato l'applicazione del fondotinta con questo pennello E ci ha spiegato che è un pennello che è stato formulato, proprio ideato per questo fondotinta Quindi ha delle setole particolari Che fanno sì che il fondotinta non sia assorbito totalmente dalle setole Rimanga più in superficie In modo che è facile da lavorare E non si sprechi troppo prodotto come potrebbe accadere utilizzando una spugnetta Infatti questo è il pennello ideale per applicare questo fondotinta Ci hanno anche mostrato i nuovi illuminanti che sono fantastici Ed anche i Bright Idea Illuminating Sticks Praticamente sono degli stick illuminanti da utilizzare sotto al fondotinta E che sono molto discreti Quindi che si illuminano quando il viso viene colpito dalla luce È veramente un effetto pazzesco E non soltanto ci hanno dato anche un piccolo attestato Ed una box personalizzata di prodotti Quindi veramente io non ho parole È tutto bellissimo Bene, non so che trucco possa avere io O che occhiaio possa avere io Con il trucco viola sciolto da oggi Purtroppo non ho potuto vloggare tantissimo da NYX Semplicemente perché C'è una tutta musica famosa E su YouTube me la bloccano Quindi c'è già la mia cintura a terra Molto ordinata E quindi non ho potuto Però è stato un evento fantastico Io sarò anche domenica al Cosmoprof Sarò al Cosmoprof presso lo stand di Equilibrio Quindi se volete venire a trovarmi vi aspetto A Bologna fa caldissimo davvero Io non mi aspettavo un caldo del genere assolutamente a Bologna Più caldo che a Napoli E c'è veramente un sole che è qualcosa di meraviglioso Mi hanno fatto i capelli oggi da L'Oreal E sono stati bravissimi Mi hanno fatto queste onde Anche i ragazzi di NYX Questo trucco che appena fatto era fantastico Poi un po' sudanno insomma A piedi per tanti chilometri nel Cosmoprof è diventato un po' Ah c'è anche il mio tatuaggio vedete Si è un po' sciolto dicevo E da NYX ci hanno fatto questo tatuaggio Ci hanno dato una box di prodotti con il nome Ci hanno dato l'attestato Adesso magari vi faccio vedere un po' di cose La box è questa con il mio nome Si è tutta un po' rovinata Perché purtroppo è in valigia E all'interno ci sono tutti quanti questi prodotti personalizzati C'è questa cassa bluetooth C'è questa agendina Poi ci sono questi sticker bellissimi La penna con la Sempre un... Sto facendo tutto acquino Un'agendina Palette Lingerie Ma tutto personalizzato Io sono contentissima Voglio farvi conoscere dei prodotti che ho scoperto oggi Al Cosmoprof e sono della Biolage E sono dei prodotti che non hanno né siliconi Ingredienti di origine naturale Senza parabeni E hanno delle profumazioni bellissime Sono state allo stand E non li conoscevo Avevo visto qualcosa su Facebook Però onestamente non li avevo provati E la loro confezione sembra quella dei green juice Questo anche è un olio Un olio spray Per capelli Questo invece è un balsamo E questo invece è uno shampoo Perfetti Poi mi hanno dato una Chiavete USB di NYX A forma di rossetto E sono impazzita quando l'ho vista Se solo la mettessi a fuoco Vabbè Diciamo che la vedete anche così E poi mi hanno dato anche questa palettina Che è la Beauty School palettina di NYX Eccola qui Fantastica Insieme alla Lingerie Questa che vi ho fatto vedere Mi piacciono tanto queste colorazioni naturali Diciamo che sono quelle che su di me Mi piacciono di più E che uso di più Insomma con cui mi trovo bene Quindi grazie per questi pensierini Per questo tatuaggio E' stato bellissimo Non solo di aver ricevuto la box Ma proprio del trattamento Che ci ha riservato NYX Gli eventi di NYX Sono fra i più I più belli E insomma Mi ha fatto tanto piacere partecipare Anche con la mia amica Fatima Che saluto Sono un po' stanca Si vede Perché questo trucco Ho sciolto viola veramente Adesso vado a fare una doccia E stasera Andrò a cena Sicuramente con il team di Equilibra Perché sono qui con loro In hotel In realtà Sono nella stanza doppia Però sono con loro In hotel E poi domenica Ovviamente vi aspetto Allo stand di Equilibra Spero che questo vlog Anche se metterò una musica Di sottofondo Possa piacervi Perché purtroppo Ci sono tutte musiche Con copyright Quindi non posso metterle E niente Spero che possa piacervi E che vi avete tenuto In qualche modo Un pochino di compagnia Io vi aspetto domenica Ci vediamo domenica ragazze Un bacione E alla prossima E alla prossima E alla prossima E alla prossima